buon pomeriggio cari amiche e cari amici si torna a parlare di coppa italia ma con una digressione siamo qui come sempre dopo le partite con luca diddi e dopo vi spiego perché l'ho voluto subito nel video delle ore 13 luca diddi ha visto la bella divertente e spettacolare così deve essere il calcio fresco acqua fresca divertimento bisogna essere in due per renderlo ancora più più spettacolare una partita però è stata una partita piacevole però con luca diddi partiamo da un altro punto cari amiche e cari amici che invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella e a mettere i vostri like ai miei video partiamo da filippo terracciani e dopo vi dico perché allora incominciamo a fare il punto ieri la trattativa sembrava molto avanzata e come in tutte le trattative adesso c'è sembrava quasi chiusa ma infatti chi ha detto chiusa forse ha un po esagerato però ci sono ancora tanti dettagli sul piano economico da limare quindi non c'è ormai oggi la sicurezza che felippo terracciano verrà ma in ogni caso luca diddi lo conosce molto bene indipendentemente speriamo visto che si tratta di un giocatore di 20 anni forte però è luca diddi che deve dircelo l'ho avuto l'anno scorso nella sua esperienza veronese luca diddi su terracciano grazie luca e buongiorno ciao buongiorno a tutti no filippo conosco molto bene perché esordito con noi l'anno scorso e vi dico allora lui è venuto in preparazione che abbiamo fatto noi inizio anno col verona è venuto diciamo veniva dal settore giovanile aveva fatto la primavera la inizialmente quando vengono questi ragazzi vengono più che altro per fare numero in attesa che arrivino i big mancava caprari a quei tempi mancava casale quindi sicuramente mancava qualche giocatore qualche esterno doig è arrivato dopo quindi sicuramente è venuto inizialmente per far numero però vi dico la verità dai primi allenamenti questo si intuiva che aveva un motore diverso è un giocatore che giocava mezzala quindi veniva da una da un'esperienza a verona dove giocava mezzala aveva giocato sia esterno qualche volta però non sempre e noi praticamente col mister mister cioffi l'abbiamo rente impostato subito da esterno quindi anche perché dovevamo giocare a cinque eh un tre cinque due tre quattro uno due e quindi faceva l'esterno scusate l'esterno di destra e quindi il ragazzo già delle prime amichevole dava sostanza dava qualità dava resistenza e soprattutto la cosa impressionante che nei test atletici veniva inserito sempre nei primi gruppi quindi nei primi gruppi vuol dire con la gente che va con la gente che ha qualità aerobiche importanti e praticamente di lì c'è stato anche il dubbio a inizio a inizio anno se dare questo ragazzo in prestito in una società di serie B oppure tenerlo a Verona e fargli fare l'esperienza da serie A perché in quei tempi là insomma è un giocatore che in tutte le serie B da terzino destro lui poteva fare il titolare addirittura per qualità ricordiamo che è un duemila e ricordiamo che è un duemila e tre poi cosa è successo è successo che abbiamo deciso di tenere ragazzo perché il mister piaceva perché a tutti piaceva e soprattutto perché era un ragazzo intelligentissimo attento attento io vi dico io penso sia stato l'unico giocatore che puntualmente finita la partita veniva da me e voleva immediatamente la partita per rivedere gli errori quello che aveva fatto ogni allenamento era così gli mandavo video delle avversarie il primo che chiedeva voleva sapere è molto attento molto molto scrupoloso su tutte le cose cioè un professionista vero vi ricordo che veniva da un'esperienza di primavera quindi sicuramente un giocatore che piaceva vedersi migliorare capire quali sono stati gli errori e quindi è entrato subito in sintonia con tutti ha fatto delle ha esordito ha fatto delle buone prestazioni mi ricordo una partita che fece contro la Sampdoria che parte titolare penso sia stata la sua prima partita titolare in cui tutti ci guardavano perché insomma fa giocare un duemila e tre subito pronti via perché non non era c'era altre alternative ha giocato lui e non ha giocato un big e fece una partita super con la Sampdoria quindi è di lì iniziata la sua attività eh il suo il suo il suo percorso meriterebbe sempre che poi ovviamente ci sono accordi col Verona ci accordi con con l'entourage del giocatore ti piacerebbe vederlo in una grande squadra lui l'hai sentito gli stanno brillando gli occhi con tutto rispetto ovviamente perché in questo momento è sotto contratto col Verona sì sì certo ovviamente è un ragazzo che fa di questo lavoro fa di questo lavoro un eh la sua più grande passione quindi è un ragazzo che ama questo lavoro è un ragazzo che lavora tantissimo in allenamento veramente tanto e ovviamente immagino lui da dove è partito questo interesse del Milan che ovviamente è reale lo sappiamo tutti lo sa anche lui è è importante cioè è importante eh ho avuto modo di di scambiarci due battute così niente di che perché è un ragazzo che merita è un ragazzo che merita e è un ragazzo che può giocare attento carlo in più ruoli in più ruoli può fare il terzino destro un po' alla salema cares per per intenderci può fare l'esterno alto può fare l'esterno alto e addirittura potrebbe fare anche la mezzala perché a qualità piede e forza è un giocatore strutturato è un giovane strutturato quindi che ha una grande forza ovviamente deve migliorare da un punto di vista difensivo mi sembra normale e logico essendo il 2003 però diciamo che in ottica Serie A in ottica Verona era ed è uno dei migliori prospetti a livello giovanile perché eh lo sai no un ragazzo conta anche la testa e la testa sua è una testa di un giocatore vero di un giocatore professionista vero esatto affermato esatto e soprattutto sono sicuro e certo di una cosa è un giocatore che non è un esaltato è un giocatore umile che se riesce a entrare in una società come il Milan entra in punta di piedi con l'umiltà con l'umiltà del ragazzo che lo contraddistingue perché è un ragazzo che ha una buona famiglia e che lo supporta viene da una famiglia di calciatori quindi sicuramente sa cosa vuol dire il sacrificio e sa cosa vuol dire fare il professionista questo lo sa perché l'ha sempre sostenuto e non si è mai in ogni allenamento tirato indietro visto allenarsi con la febbre e stando male cioè è un ragazzo che non ha mai mollato un millimetro dal giorno uno di preparazione che era venuto per far numero al fatto che c'è stato un bivio vai in prestito un b o rimane in Serie A rimasto in Serie A se è meritato la Serie A a livello una serie di 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 percorso e ti posso dire che è stato preferito tante volte a dei titolari io mi ricordo una cosa quando si giocava abbiamo giocato a Roma con la Lazio che ovviamente giocava nel suo primo grande stadio perché era l'olimpico e lì partito l'area lì partito lare eravamo in dubbio se farlo giocare subito no perché giocavi contro la Lazio stadio importante tutto e poi c'è stata la decisione di farlo giocare titolare subito e lui ha risposto ha fatto una buonissima partita contro avversari importanti perché ricordiamo Milinkovic ricordiamo Lazzari ricordiamo cioè aveva giocatori importanti e lui ha tenuto botta quindi da lì abbiamo capito comunque un giocatore che ci può stare io ti ringrazio già per questo per queste diciamo spiegazioni che ci hanno fatto venire sicuramente l'acquolina in bocca ai tifosi del Milan adesso spetterà la società abbiamo i plini potenziali di mercato abbiamo l'amministratore delegato se riusciranno a trovare il giocatore valido il Milan lo stava seguendo come tanti altri italiani vedremo che cosa riuscirà il Milan a diciamo a sviluppare in questa trattativa ma andiamo alla partita di ieri che cosa ti è piaciuto innanzitutto un applauso al coraggio di Stefano Pioli sinceramente ero perplesso ho messo il mio titolo non io ho paura dicevo ma come la Coppa Italia a livello numerico è quella più facile nel senso che ci sono poche partite per vincerla ma cosa gli è venuto in mente e ieri qualcuno si è scusato e io ho detto che sono andato a Canossa anche se non sono stato tre giorni sotto la neve davanti al palazzo di Matilde di Canossa dove c'era Gregorio VII e Gregorio VII in questo caso Stefano Pioli. Allora guarda a di là della partita che comunque giustamente ha già detto tutto te io mi voglio soffermare su due giocatori che ho visto molto molto bene allora intanto parto da Simic è un giocatore che sta prendendo consapevolezza perché io mi sono soffermato sulla sua partita cioè quando c'erano le azioni io guardavo lui quando c'erano determinate situazioni vedevo lui stamattina ho scaricato la partita me la sono rivista ho guardato lui è un giocatore che sta prendendo consapevolezza e ti dico la verità mi ricorda come stile di gioco il buon Giorgio Chiellini perché gli metti pressione no gli metto perché finalmente finalmente abbiamo ho visto un marcatore vecchio stile uno che ti sente che ti annusa che ti attacca che ti anticipa che ti dà la presenza ma io guarda i nuovi difensori sono abituati alla scivolata all'entratina al questo è un giocatore che ti morde che ti fa sentire che c'è è un giocatore che ha personalità e che l'ho visto crescere aveva un avversario non facile come Petagna aveva un avversario lovumbo non facile non l'ha mai sapendo le sue caratteristiche non l'ha mai fatto ripartire l'ha sempre anticipato gli ha sempre messo il corpo davanti cioè ha sempre fatto la scelta giusta queste cose sono passate un po' inosservate però se ti concentri su un giocatore che deve crescere su un tuo giocatore e vedi tanti piccoli particolari vedi che questo giocatore sta crescendo sta prendendo consapevolezza in quello che è e il Milan in questo momento qua è giusto che insista su questo giocatore può sbagliare può commettere l'errore può farci perdere la partita perfetto lo sappiamo è messo in preventivo ma sta nascendo un difensore vecchio stile che dobbiamo assolutamente valorizzare e tenere di conto un altro impressione su Imenez ecco ci arrivavo Imenez mi ha sorpreso perché è un giocatore che ha una dote impressionante ha una grandissima capacità di aggressione a capacità di aggressione a tempi di aggressione a intermittenza a velocità di gamba a ritmo di gamba quindi un altro giocatore che mi ha molto più sorpreso di Chaka Tauré di Romero degli Zeroli cioè io sono rimasto impressionato dal ritmo dalla frequenza di passo di Imenez e dalla capacità di aggressione questo è un giocatore che ai tempi di aggressione è giovanissimo e a questi tempi di aggressione quindi io sono rimasto piacevolmente sorpreso da questi due giocatori Imenez può giocare sia a destra che a sinistra abbiamo il terzino no Miranda Imenez no Miranda io voglio io il Milan deve puntare su Imenez quindi sicuramente il giocatore che mi ha sorpreso è stata una piacevolissima sorpresa lui e Simic per concludere quello che mi è piaciuto ho visto un giocatore un Milan fresco cioè mettendo questi giocatori sono giocatori che non sono stati impegnati nelle nelle due battaglie di Champions nelle partite collose con Atalanta e Salernitana e ho ritrovato dopo dopo tre giorni dopo un Milan Sassuolo veramente complicato qualcuno ha definito addirittura noioso ho ritrovato proprio la gioia gioia of life di giocare a calcio sì ma i giovani portano entusiasmo eh metti metti dentro cinque sei ragazzi di diciott'anni quattro avevamo che hanno giocato a titolare metti entusiasmo e me li voglia di fare metti spensieratezza smetti tanti tanti fattori metti quelle tossine positive che comunque anche anche il pubblico non ti fischierà mai ti supporterà sempre ieri a San Silo c'era entusiasmo di vedere questi ragazzini a prescindere dal risultato io ho visto entusiasmo nel vedere di applaudire ragazzini di diciott'anni ho visto entusiasmo quando scendeva i menets quando faceva una giocata tra ore quindi sicuramente c'è spensieratezza in questi ragazzi e e questo sono tutte cose positive all'interno del Milan dello spogliatoio un dei ragazzi importanti che stanno facendo bene nei rispettivi campionati che vanno protetti vanno valorizzati nei tempi giusti e fatto fare un percorso di crescita importante come sicuramente meritano quindi tutto questo ha portato entusiasmo e queste tossine positive al Milan che mancano chiudiamo con 30 secondi uno 30 secondi l'altro 30 secondi su Adli il passaggio sembrava Rui Costa quando ha liberato Jovic l'unica roba che nel secondo tempo ha sempre un po' un calo lo si vede aumenta un po' gli errori io sono un adlista 30 secondi una tua opinione poi chiudiamo con l'ultimo giocatore allora Adli rispetto al solito l'ho visto un po' più macchinoso rispetto al solito un po' meno brillante lasciando fare la qualità dei passaggi la qualità di piede che è un giocatore che ha qualità comunque l'ho visto bene l'ho visto un giocatore che fa il suo gioca semplice un giocatore che ci può stare che può essere un'alternativa sicuramente sarà un giocatore importante durante la stagione però Jovic bene perché è un giocatore umorale come abbiamo sempre detto un giocatore che ha bisogno del gol ha bisogno di sentire l'affetto dei tifosti è un giocatore che ovviamente in questo momento possiamo contare su Jovic questo secondo me è la cosa più importante eh non abbiamo l'obbligo di far giocare Giroud mezzo mezzo malato mezzo infortunato abbiamo un'alternativa come Jovic vorrei soffermarmi anche concludendo con un giocatore che sta crescendo e magari non è è ancora un po' non visto che Tiani Reinders sta facendo molto bene ora è fresco il giocatore più impiegato dal Milan e soprattutto non so se Koeman hai sentito quello che ha detto Koeman cioè io vorrei Reinders più altri dieci per giocare con l'Olanda quindi dedicami scusa dedicami scusami ancora 30 secondi le difficoltà contro l'Empoli sembrerebbe una parita abbordabile e perché tu metti il ma le difficoltà contro l'Empoli stanno tutte nella nostra testa Carlo le difficoltà contro l'Empoli è solo con un Milan che va Empoli sapendo che deve giocare tranquilla la partita tranquilla senza furia può succedere che che vai sotto può succedere che la 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 stravinci il Milan deve andare a a Empoli con lo stesso entusiasmo che ha affrontato la partita del col Cagliari in Coppa Italia con quell'entusiasmo lì con quella spensieratezza lì a di là zero pressioni zero pressioni e sicuramente il Milan farà una buona partita perché comunque te l'ho detto queste tossine positive poi le risenti anche in campionato il Milan dentro spogliatori del Milan in questo momento c'è positività c'è giovani c'è allegria c'è spensieratezza c'è l'Eau che è tornato al gol c'è un insieme di cose la partita di ieri ha voluta di tanta al Milan molto più a livello di testa che di risultati ovviamente importanti sono totalmente d'accordo con te il Milan dopo il 4 a 1 di ieri è certamente più libero e secondo me più forte io ti ringrazio Lucas prezioso questa tua testimonianza su Terracciano queste tue opinioni su Imenez e su Simic Imenez lo conoscevo un po di più Simic sai serve l'occhio tuo più che il mio nel vedere i particolari ti ringrazio l'appuntamento con te è per il dopo Empoli Milan e doppio appuntamento perché settimana prossima alle ore 21 il Milan giocherà con la vincente Atalanta o Sassuolo in Coppa Italia grazie Luca e grazie a tutti